Benvenuti amici, io sono Salpimpus, oggi torniamo alla domenica horror con Siren Head Un nuovo gioco di Siren Head, perché l'altra volta abbiamo visto una versione, un po' ancora in lavorazione Ma adesso ne abbiamo un altro, questo, già si vede tutto da qui Proviamo, vediamo se è migliore dell'altro, speriamo quantomeno Alla grafica mettiamo almeno ok, mettiamo ok Difficoltà è facile, normale ed estrema addirittura Iniziamo con cose facili, perché poi, casomai se lo completiamo, aumentiamo un po' la difficoltà Forza, vediamo di che si tratta Allora, ovviamente avremo a che fare con Siren Head, ovviamente Ci suggerisce di scappare o saremo praticamente schiacciati Il gioco ha quattro differenti finali Cerca di trovarli tutti PS, se senti, la Sirena scappa, grazie mille per la... per la V, ma che è? Ma è già così? Quanto sei brutto? Aspetta, ma io che dovrei fare di preciso? La torcia Ok, questo ranno Ma io di preciso... Ciao Come se è macrolino Veramente, mangiatelo un po' di pasta ogni tanto, dico io Che dovrei fare di preciso io? A parte il giron solare qua Come una formichina sperduta Tra l'altro Mi segue Già mi ha visto, ma che è? Ma che c'è? Gli occhi, il radar, proprio negli occhi Aspetta che io nel dubbio salirei qua Questa capannucola di qua Mamma mia che è veloce, però Aspetta Aspetta che mi sta prendendo Aspetta, ragazzi, io salgo Posso salire? Mi sa che non ce la faccio Saliamo, saliamo Veloce Veloce, veloce Non mi mangiare Non mi mangiare che non sono buono Non sono qua Non mi mangiare che non sono buono Non mi mangiare... Mamma quanto è alto Se passo qua mi mangia? Sali, sali Veloce, tizio C'hai un gigante accanto E ti stoppi pure Allora Ciao Dov'è? Ciao Su Su Giù Ciao Ciao Sarenette Che è? Che è successo? Ho fatto cose a caso Off On Ho attivato cose solo passandoci Off On Abbiamo acceso qualcosa Di preciso non so cosa Però l'abbiamo accesa E quindi che fa? Me ne scendo? Me ne riscendo? E quello si è fossilizzato là Non me ne farà andare manco Se lo pago Ti pago Sarenette Me ne fai uscire per favore Me ne vado 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 Corro Corro Mi butto Mi butto che è morbido Non salta Ciao Mi ha bloccato la strada Mi ha bloccato la strada Ciao Non mi mangiare per favore Non sono Non sono stato Via 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 Ok Non mi ho mangiato Meno male Meno male Allora E ho attivato qualcosa Ma che co Ma quanto sei Testa di ramoscello In questo caso Testa di sirene Allora qua Abbiamo il campo Aspetta un attimo Che guardiamo meglio Ma che mi sono perso qualcosa Che abbiamo Veloce Veloce Perché sta arrivando quello Che è velocissimo Io ho attivato qua Una cosa Che cosa ho attivato? Che cos'è che ho attivato? Là c'è un'altra casupa La via Andiamo di là Che cosa abbiamo qua? Una casupola ovviamente Ma che cosa c'è di preciso? Che quello mi segue Quello non mi lascia respirare Eccolo là Via Non mi puoi prendere Da dentro le casupole Giusto? Io entro da qua Fammi vedere Che c'è in questa casupola Ok Dico Arredatele le case Se le fate Arredatele Metteteci Quattro mobiletti E' qua Completamente vuoto E che ci sono venuto A fare Mi sta venendo in mal di mare Con sta visuale Che c'è? Un telefono per terra Guarda quanto è grosso Sto telefono Eh? Ok Mi ha preso Mi ha distrutto la casa Ma che è? Stavo chiamando la polizia Faccia di capra Avevo chiamato l'elicottero Della polizia Ma dai Ma dico La sirena Non l'avevo sentita però Non mi prendete in giro Però Allora io La polizia La vado a chiamare per primo E poi andiamo A meno che manca la corrente Quindi non posso Vabbè Il telefono mi cava a corrente Non lo so Quindi in teoria La chiamata Potrei farla lo stesso Però non lo so Adesso vediamo Veloce 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 Perché io clicco run Ma non run Sei lento come una capra zoppa Allora Veloce Perché quello Mi raggiunge molto velocemente Allora Lente Lente Telefono 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 casa Ok funziona il telefono Perfetto È on your way Perfetto Sì sì Vieni qua che c'è una testa di sirena Che mi rincorre A posto Me ne posso andare Però io lì Avevo attivato qualcosa Del dubbio Eh dai Ma dammi tregua Ma manco Manco trovo l'uscita Qua io Veloce 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 Dai che ce la possiamo fare Dobbiamo uscire subito da qua Altrimenti quello ci schiaccia Chi è My body Is under Water Sotto l'acqua Il mio corpo è sotto l'acqua E chi se ne frega Sono rincorso io qua Chi se ne frega Annega Che vuoi Non lo capisco Da dov'è che si entra Mi sono perso con l'entrata qua Vai Veloce Veloce Sotto l'acqua In che senso è negato Chiama Chiama Scappiamo Scappiamo Prima che arriva quello Scappiamo Vai Vai Che siamo tutti conti Vai Non mi crashare Non mi schiacciare Mamma mia Già Non mi schiacciare Mamma mia Per un pelo sono uscito Per un pelo Ok Sotto l'acqua Ma dove sotto l'acqua Non lo guardo L'elicottero è arrivato Vedi che devi fare Uccidilo Ovviamente Diceva quello dell'elicottero Se io me ne vado lì Che si fa Ovviamente ci sono quattro finali Comunque Quindi in teoria Uno magari è scappare In elicottero Ecco Sotto l'acqua Lì c'è acqua E magari è lì Ma però chi Chi è che lascia Sti messaggini Elicottero Aspetta che lo sto attirando A me Dopo vengo Com'è che Questo rincorre solo a me Ma che gli ho fatto Ma come c'è l'elicottero E la polizia Lo lascia in pace E a me Mi rincorre Piano 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 Con calma E con circospezione Lo attiriamo qua Niente Ce l'ha con me Ma che ti ho rubato Le caramelle Quando eri piccolo Ma perché Te la prendi solo con me Aspetta Lo attiro un po' L'elicottero Dove che me lo so perso Da quelle parti Lo attiriamo un po' E dopo di che Guarda quanto è brutto Però Guardalo qua Guarda Quanto sei magrolino Ma mangio Mangio un po' di più Ho sentito il rumore di acqua Però nel dubbio Io scappo Ma che mi rincorre pure Nello spirito di quello Il fantasma di quell'altro Allora Elicottero Scappiamo 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 Come se non ci fosse un domani Via Aspetta un attimo Che Mi devo organizzare qua Quello mi rincorre Dov'è? È dietro di me Vai Vai Non ti curare di lui Andiamo all'elicottero Eccomi Sei arrivato? Sei arrivato? Parti? Ok E questo è il primo finale Ok Un finale Quanto meno L'abbiamo visto Quindi Primo finale Si riuscita a scappare In elicottero Quindi chiamando la polizia E quindi scappando In elicottero Vediamo di scoprire Qualche altra cosa Forse È inutile Che vada a chiamare la polizia Giusto? Perché già Giustamente L'abbiamo vista Quindi Andiamo lì Perché si attivava qualcosa Che effettivamente Non abbiamo visto E magari C'entra con Il messaggio Che mi avevo letto Perché Ci troviamo praticamente in acqua Magari attivo qualche Non lo so Qualche E qua non mi puoi schiacciare E questa è troppo grossa per te Anche se tu sei grosso E qua non mi puoi crashare qua Mi dispiace per te Vatti a cercare un'altra vittima Allora Io attivo il pulsante Però Che succede Attivare Danger Alto voltaggio On Perfetto Quindi lo attiviamo dove? Alto voltaggio Magari c'è una rete elettrica Però Attivando l'alto voltaggio Dico da qualche parte L'attiviamo Quindi O lo troviamo O ce l'andiamo in acqua Vediamo che c'è Cerchiamo Il corpo di quello Vediamo che Vediamo che troviamo Veloce Il mio corpo è sotto l'acqua Ma dove di preciso? Qua c'è qualcosa Dei fusti radioattivi Io non so nuotare però Che faccia? Quello sa nuotare? Mi sa di sì Ma mi schiacci l'acqua? No È rimasto Buggato lì Bu Sotto l'acqua Il mio corpo è sotto l'acqua Non c'è qua Dov'è che si è annegato? Dov'è che si è annegato? Che qua vedo solo bidoncini Si è buggato Forse si è buggato ragazzi Ho buggato Sarenhead Grande così Allora Qua non c'è niente però Bidoncini radioattivi Il corpo di quello non c'è Qua c'è una barca Il tizio è qua Mi porto la barca Ma la porto Ma la sgraffigno La sto cappottando Ma non credo che sia così Però si dice sotto l'acqua Dico L'acqua è qua C'è altro? Un giro? Un treno? Un treno dragliato? No È sui binari Però È fermo Quindi che ci facciamo Mi schiaccio pure dentro il treno Ma tra l'altro Non ci possiamo entrare qua C'è qualcosa qua Alto voltaggio attivo il treno Me ne vado in treno Però il treno qua Non si attiva Perché la galleria è crollata Eh si è sbuggato Eh si è sbuggato Il faccio di capra No Non mi puoi prendere Non mi prendere Non mi prendere Non mi prendere che non sono buono da mangiare Di qua Che abbiamo qua? Niente Casse Casse cadute Entro dentro le casse Me ne vado Me ne va Me ne vado dalle casse Sono scappato Un'altra via di fuga è questa? No Non credo Perché è troppo semplice Tra l'altro mi sono bloccato Sto scalando Sto scalando le montagne Me ne sono andato Me ne sono andato Sono scappato Mi butto da qui Che morbido Sono precipitato ragazzi Vediamo se entra Vedo il corpo di quella Si butta anche Sarenhead Mi sono autobuggato Vabbè Allora ragazzi Ovviamente io non potrò più uscire da qua Forse Invece si invece Ok Abbiamo visto un finale Fatemi sapere nei commenti Se voi ci avete giocato E come sbloccare gli altri finali Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora l'avete fatto Attivate la campanella E poi c'è tutto A prossimo video Oggi torniamo al sabato Horror con Antartica 88 Andiamo a continuare la partita Praticamente Dov'è che siamo? Siamo ritornati in perforazione Perché abbiamo scoperto Che comunque Il nostro padre è morto Non c'è niente da fare